Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carriera allenatore, io sono sempre Andre e oggi siamo qua come sabato scorso ancora una volta con ZV Jackson, eccolo qua Ciao Andre, ciao ragazzi, mi fa un sacco piacere essere ancora qui sul canale visto che la scorsa challenge vi è piaciuta e soprattutto visto che nella scorsa challenge ho avuto la voce un po' strana Ma infatti adesso qua nella chiamata mi sembra una voce un po' più mascolina, non so, sei cambiato in una settimana, sei diventato più grande Esatto, più che altro ho fatto il cambio voce in una voce più matura, vabbè Vabbè chiediamo scusa ragazzi, sono... No, tranquilli, tranquilli Va bene, meno male che l'ha presa bello il nostro caro ZV Comunque oggi siamo qua ancora con un osservatore challenge visto che la prima è andata molto bene Ci sono stati veramente tantissimi commenti su dove mandare gli osservatori, veramente siete stati veramente tanto interessati a questo E quindi abbiamo preso come suggerimento la Francia perché è molto interessante e poi perché c'è un ragazzetto che ZV portava nel... Che ZV portava nel suo... Adesso è diventato il mio top player, Briand, nella mia carriera col Monza, l'ho trovato appunto nel vivaio Ma tra l'altro io mi sa che nella scorsa challenge, almeno leggendo i commenti dei ragazzi Diciamo che ho avuto un po' di aiuto perché io a quanto pare ho prenotato il gioco e il gioco in automatico mi mette un futuro top player nel vivaio Tu per caso l'hai prenotato il gioco? Eh no, io l'ho preso quando è uscito normalmente Ah ok, allora vediamo Dai allora vediamo e se anche in questa challenge dovessi avere un altro top player direttamente nel vivaio facciamo che non vale, ok? Ah va bene, qua qua sui trucchetti delle boss e delle carriere Ah no, 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 no no Ah no, a cosa è successo? No, 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 pensavo volessi incolparmi di qualche trucchetto ma io ero in buona fene No, mai mai, non lo farei mai assolutamente Mai, mai, mai Beh, allora senza perdere altro tempo, ricapitoliamo Siamo in Francia, abbiamo scelto il Lione E andiamo a vedere che abbiamo nel vivaio Così, andiamo subito a stecca Subito, subito, via Dimmi un po' alla tua prima occhiata cosa trovi Io ti dico che qua parto bene Parto benissimo Io parto sicuramente più bene di te Perché c'è un altro top player Qui è veramente un altro brand Ti dico il mio? Vai, vai, vai A parte che rispetto al Sassuolo Nel senso, pare a me O abbiamo un sacco più di giocatori? Io ne ho tantissimi Infatti li sto cedendo, quelli che non voglio Perché sono tantissimi Ok, allora faccio la stessa identica cosa anche io Allora ti dico che ho due giocatori interessanti Il primo è Marcus Ritter Del Lich Testain Cioè, guarda un po' Con 5 stelle skill, 3 piede debole 15 anni 76-94 Ma un totale di 45 E poi, adesso Meno male che ti ho avvertito E voglio vincere questa sfida ragazzi Sinceramente Charles Masson Che è un po' Charles Manson Invece è Charles Masson Masson diciamo, non lo so Esterno sinistro, esterno destro 17 anni francese 1,95 Quindi è come Briand Mancino 5 stelle skill 5 stelle piede debole 17 anni 72 di overall 81,94 Ciao, è una bestia È stato un piacere Questo video può finire qui E diciamo No, no, no Facciamo così Che io Li cedo tutti Tutti? Tutti Tutti Li cedo Voglio Vincere questa sfida Scovandone qualcuno Lealmente Scovandone qualcuno Bravo Beh, comunque guarda che io non sono messo male però Adesso ti dico Allora, io ce ne ho Ne ho tenuti tre Ma aspetta Ne tengo due Questo lo do via Ne tengo due Tengo un certo Tomansen Kristiansen Danese 17enne 63 di base 73,94 Come è potenziale Porca miseria Buono Comunque non è male Quanto è che aveva di base? 63 Buono, buonissimo Quindi non è malissimo E poi c'è un altro Un Victor Lopez Un Uruguaggio 55 di overall 74,94 Di potenziale Io questo Te li tieni Li terrei Li tengo, sì Perché comunque 63,55 Dai Può andar bene Secondo me E adesso speriamo di trovare qualcosa di carino Con gli osservatori Perché Allora, il mio c'ha 4,4 Anche il tuo? Io Ah no Il mio 4,5 Di giudizio Dai Vedi Fammi vedere se ci sono altri osservatori Di 4 Il mio Enzo Le maniere No, io ce n'ho Posso prenderne uno 5,5 Oppure uno 4,4 Prova a vedere se riesci a comprare un altro osservatore Con 4,4 O 5,5 Ok, allora vediamo un po' Assumi osservatore Allora Io c'ho un altro 4,5 O un 4,4 Prendiamo due, 4,4 Sì, prenditi il 4,4 Anche tu Almeno siamo equilibrati Esatto, esatto Perfetto Allora il mio Adrian Koenig Austriaco Facciamo seguire i giocatori In Francia Li mandiamo in Francia Perché giustamente siamo in Francia E vediamo un po' Allora facciamo sempre tre mesi E come la scorsa volta Facciamo che non ci diciamo Dove La tipologia In cui mandiamo a cercare il giocatore Ma deve essere diversa da quella dell'altra volta Sì Questa volta Se li mandi in Francia Ti viene in mente soltanto un ruolo Anzi forse due Vabbè In teoria francesi sono tutti delle bestie Sì Io ho scelto Io ho scelto Perché secondo me qua posso trovare qualcosa di carino Perché i francesi secondo me questa caratteristica ce l'hanno Ce l'hanno nel sangue Io sono indeciso tra tre Questi tre ragazzi Voi magari fatemi sapere nei commenti Quale tipologia avreste scelto Allora Dai vabbè 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 Ho scelto Dai Andata Ok Io anch'io ho scelto E direi di andare a simulare Vai Calendario Simuliamo il nostro solito mesetto Quindi ci andiamo al primo ad agosto E simuliamo Eccoci qua Primo agosto Andiamo Via via Sono curiosissimo perché Dopo il pareggio dell'altra volta Qua ragazzi bisogna vincere Cioè c'è poche storie Allora Il pareggio non si può vedere Oh questo non è male Questo non è male Oh Oh pure questo non è male No io malissimo Nooo Eh guarda che questa volta Non dico che ci ho azzeccato Però la prima volta con l'Italia Non era andata così bene Fammi rivedere un po' nel divaio Ma buono dai Oddio C'è un totale Un po' bassino Però ha un buon potenziale Tu quanti ne hai trovati discreti? Allora discreto in realtà Uno C'è due Ma uno Questo Achille Godin Achille non so francese Con un potenziale 67,91 che vale 300.000 Quindi il valore è qualcosa che mi può dire che forse può darvi per l'usila Io giusto per sfizio lo ingaggio Gli altri li rifiuto tutti Però questo qui Questo qui lo ingaggio Lo ingaggio volentieri Proprio sinceramente ti dico E voglio vedere un po' Nel vivaio Intanto tu dimmi un po' Io ho trovato due quindicenni Nicolas Salun Per fare un po' di francese E Lucien Berger Non lo so ragazzi Pace Allora ti dicevo Entrambi i quindicenni Salun Potenziale 72,94 Totale 41 però Peccato Veramente peccato Ed è un Cdc Slash Dc Quindi buonissimo E invece poi Lucien È un AT Slash ATT 51 di totale Potenziale 70,94 Con 5 di debole Tutto sommato Non lo so Cioè Pensavo meglio Sincero Però io guarda che nel vivaio Il mio Tom Sen Cristian Sen Di prima Cioè Qua veramente mi sta facendo sognare Adesso c'ha 79,94 di potenziale 63 di over Questo ragazzo Questo ragazzo Mi sa che Mi sa che Però Brilla particolarmente Mi devo Mi devo riprendere Rimandiamolo subito Perché qui Pensavo di aver fatto due Due belle scoperte in Francia Invece no No Dai 1 settembre Primo settembre Sì Via 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 Arrivati al primo settembre Ah E la sfida È super accesa È super super accesa qua Mamma Andiamo a vedere Senza perdere tempo Io sono curioso Curioso Porca miseria Beh 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 Attenzione Perché cosa sono sti Beh 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 Non ti passi I giocatori che c'hai E sì In realtà sì Soprattutto quel Quel danese Però Mi sono arrivati Un quindicenne E un sedicenne Il sedicenne Ha un valore Di 425 E ha E ha un potenziale 68 92 E il quindicenne Altri 300 mila Potenziale 70 94 Però Qua ne prendo solo uno Ne prendo solo uno E piglio il sedicenne Da 425 mila E io ho trovato un quindicenne Alexis Petit Che per il cognome Potrebbe essere pure più forte Vale 250 mila 15 anni Ti dicevo 47 63 di total Adesso lo ingaggiamo Andiamo subito a vederlo Nello specifico Però Di sicuro Sono ancora indietro Ho l'ultimo mesetto Per Per fare La scovata del secolo Eh sì Sei indietro però Questo Christian Se ne è sceso Un pochettino Cavolo Mannaggia lui Però In compenso È salito Il Lopez Che ho tenuto prima Io questo Stavo praticamente Staffetta Eh io questo Petit Invece Che ho Preso adesso È stranamente diventato Il mio giocatore più forte Quindi Figura di come Sono messo Eh ma guarda Che in un mese Può succedere Ma Infatti Arriviamo Al prossimo mese E tra l'altro Non mi ha ancora detto Dove l'hai mandato Perché sono curioso Minimo l'abbiamo mandato Anche nello stesso posto Eh Guarda adesso Finiamo Arriviamo al primo ottobre E ci diciamo dove l'abbiamo mandato Dai va bene Così è l'ultimo mese E ci diciamo Dai spero Perché Cavolo Stai dominando E te la so palesemente Mandando Siamo arrivati all'ultimo mese Ragazzi C'è l'ultimo mese Di questo video Dimmi un po' Dove hai mandato te Perché sono curioso adesso L'ho mandato in dotato tecnicamente Perché i francesi Mi è venuto in mente Mbappé Mi è venuto in mente Paglie Pogba Sono tutti dotati tecnicamente In effetti ci stava Però Io li ho mandati In Ala Perché Devo mandare anche lì Infatti Io Sai dove ero indeciso Io Ero indeciso Dotato tecnicamente Ala O forte fisicamente Perché mi viene in mente Cantè Mi viene in mente Vieira Mi viene in mente Mucchiele 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 Vieira Mendy Sono tutti delle bestie Io infatti Ne ho trovato un altro Ho trovato Un tipo Blanc Un altro Quindicenne Da 425 mila euro 67 93 Hai vinto Palesemente Cioè il mio osservatore Qua mi trova Potenziale 54 66 Allora Vai nel vivaio Perché io mi sa che ho vinto Lo dico Io Lo dico Hai palesemente vinto Andre Eh ma Con due mi sa Con due mi sa Con due Mi sa di sì Mi sa di sì Dimmi un po' il tuo Allora Non ci voglio manco andare A vedere il mio osservo Mi vaio Ah ragazzi Nei commenti Suggeriteci Io Io opterei per olandesi Eh Io ho perso di brutto Allora i miei sono Nicolas Salun 15 anni 42 di totale Potenziale 72 88 Male male Il mio giocatore Con più Overall Iniziale Ept Quello lì 15enne 52 di totale Potenziale 66 84 E poi C'ho Lucien Berger 15enne Anche lui 51 di totale 73 89 Malissimo Il mio Thompson Christensen 18enne Che con lui Credo che abbiamo vinto 63 di totale 79 93 Eh Quei tre anni in più Hanno fatto la differenza Eh Bravissimo Complimenti Quindi per adesso Diciamo che siamo 1-0 per te Perché l'Italia è finita in pareggio E 1-0 per la Francia Ma io mi voglio di fare Assolutamente La prossima Allora la prossima Facciamo così Decidete magari voi Qua sotto nei commenti Se è Olanda O Scegliene una tu Ma io Opterei per la Germania Perché la Germania Sono belli cattivi Belli rocciosi Anche da giovani Secondo me Ah ok Ok Vabbè Basta che non ti fai consigliare Da Giano Però eh No 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 Giuro che non lo faccio Forse No 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 Siamo arrivati alla fine Anche di questo video Speriamo vi sia piaciuto Vi abbia intrattenuto Saluto e ringrazio ancora Tantissimo ZV Grazie a voi Che è stato un piacere E divertentissimo Fare video insieme Commentate come appunto Abbiamo detto Iscrivetevi anche al canale Di ZV Che chiaramente è in descrizione Lasciate un mi piace Attivate la campanella Vediamo al prossimo video E con ZV a sabato prossimo Ciao ragazzi